Mi trovo qui in compagnia di Sonia dall'Ottica Franco Carletti per parlare della nuova tendenza del 2010. Sonia che cosa mi dici? Ciao Cinzia, innanzitutto i cambiamenti più importanti direi che sono sull'occhiale da vista in quanto adesso va di moda molto grande in celluloide o tartarugato neri e stile molto anni 70. Sonia bisogna proprio dire che ormai l'occhiale è diventato un accessorio indispensabile per la moda come una borsa o una scarpa quindi ce ne sono di tantissimi tipi e di tantissimi gusti chiaramente. Assolutamente sì, se vuoi possiamo anche provarne qualcuno. Beh ormai mi conosci, cominciamo a provare. Don't need a super-sized natural sun Don't need a super-sized natural sun I can't see you I'm so high that I don't minding you die Sonia questi occhiali sono bellissimi veramente ma non è che me ne fai provare pure qualcuno da sole colorato? Assolutamente sì, colorati, con lenti sfumate e molto anni 70. Musica 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Allora dobbiamo ringraziare molto Sonia, grazie a tutto lo staff dell'Ottica Carletti e vi aspettiamo qui per la nuova collezione autunno-inverno del 2010